Pronto signora, è la regione Lazio? Grazie, mi passa il presidente Zingaretti, Angelo Cristofanelli, grazie. Anico, che me si scioglie? E ti telefono per l'altro ambiente? Stanno sciopero. Anico, qua è un casino. Ehi, ho capito, te, lo vedi? Vedi che bello? Ma che se fa così? Anico, ma questi devono più stipendio, devono più stipendio. E allora? E allora? E tu che sta a fare là? Oh, ma chi è il socio maggioranza dell'Azio Ambiente? So io. E ho capito, è tanto da fare. Ti sei stufato? Ma come ti sei stufato? Ma qua mi sono stufato io. Ma che è questa situazione? Guarda qua, a casa mia, guarda che casino che c'è sta. Guarda lo sai come si dice da queste parti, no? E tu sta a far frocio col culo dell'altro. Ma ti pare bello? Ma è da sinistra. La gente lavora e non la paghi. Ma che me ne frega che i comuni non pagano, è un problema tuo, mica è mio. Ah, Anico, vedi, vedi che ti arzzi le chiappe, sbagli e fai, e si stama a questa situazione. Sì, te lo togliere il Nazareno. Sì, ma domani, domani se vediamo il Nazareno, va. Sì, sì, te saluto, va. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.